Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così i problemi riguardo all'audio se l'audio ha smesso di funzionare quindi non funziona proprio del tutto per un attimo stavi ascoltando qualcosa, stavi giocando a qualcosa e all'improvviso l'audio ha smesso di funzionare per problemi riguardo al driver audio oppure che non funziona più quindi bisogna aggiornare questo driver disabilitare il dispositivo disinstallare il dispositivo e poi riavviare il sistema quindi in questo caso andiamo un attimo su gestione dispositivi tasto destro su start qua sopra andiamo direttamente su gestione dispositivi come puoi vedere qui ci sono tutti i nostri dispositivi controller audio qui ci sono i nostri dispositivi audio il dispositivo audio che uso di più è Realtek Audio e questo FX Sound che uso per boostare l'audio quindi questo qua è quello più importante se c'è un triangolino giallo vicino bisogna soprattutto fare disabilità il dispositivo e poi abilitare il dispositivo se non funziona proprio del tutto bisogna disinstallare il dispositivo e riavviare il sistema una volta riavviato si reinstallerà da solo il dispositivo e per aggiornarlo un giorno driver cerca i driver nel computer e adesso fermiamoci qua andiamo direttamente sul programma che si chiama driver easy che ti ho lasciato in descrizione ci sono direttamente tre piani che puoi scaricare c'è il piano quello gratuito light e poi c'è quello da 100 dollari all'anno io invece ho preso quello light driver easy gratis fai la scansione dei driver poi vai su aggiorna e qui ci sono tutti i driver che devi aggiornare come puoi vedere c'è il driver Realtek questo qua Realtek High Definition Audio vado direttamente su aggiorna quindi devi scaricare il tuo driver audio quello che è uguale a questo qua quindi io vado su aggiorna crea manualmente faccio continua installa manualmente faccio continua una volta fatto ti porterà in una cartella questa è la cartella faccio copia copio così il percorso file di quella cartella per aggiornare il dispositivo audio aggiorna driver cerca driver computer e ci metto il percorso file che ho copiato che è in quella cartella faccio avanti i driver migliori per il tuo dispositivo sono già installati avevo già installato questi driver per il mio dispositivo audio e faccio chiudi una volta fatto il sistema ci dirà di riavviare il computer faccio no quindi tu puoi usare driver easy per aggiornare i tuoi dispositivi audio tutti pure quelle che c'è nel triangolino giallo tu lo cerchi qua sopra lo aggiorni e ci copi il percorso file e lo metti qua se tu invece passi alla versione pro te lo aggiorna automaticamente senza nessun problema ora se non dovesse funzionare questo metodo possiamo sempre andare su impostazioni risoluzione problemi altri strumenti di risoluzione dei problemi i più frequenti quelle che usano rete internet stampante windows update e audio vado su esegui audio abbiamo il tuo consenso eseguire la diagnostica facciamo sì abbiamo messo segnale acustico quindi se hai sentito il suono bip io l'ho sentito e faccio sì quindi funziona l'audio potrebbe essere utile riprodurre il problema mentre eseguo un'altra scansione facciamo un'altra scansione ad esempio se stai utilizzando un'app musicale riprova l'app oppure se stavi guardando un video prova a riprodurre l'interazione continua quando è finito riprodurre il problema faccio continua ora sta intagando così il problema e continuerà ad andare sempre avanti finché non troverà il problema riguardo a questa impostazione al danno dell'audio quindi stiamo facendo di non essere riuscito a risolvere il tuo problema perché a me non c'è nessun problema da risolvere perché a me l'audio funziona perfettamente ora se chiudiamo un attimo qua andiamo su tasto destro sull'icona dell'audio impostazioni audio altre impostazioni audio può essere che l'audio 2 è disattivato come puoi vedere c'è una freccia in giù questa qua nera bisogna fare tasto destro sopra e fai abilita e abilita il tuo dispositivo audio questa cosa anche con il microfono se in questo caso è sul rosso come puoi vedere non è collegato perché quando il dispositivo diciamo che le mie cuffie hanno sia il microfono che l'audio quindi è collegato solamente il cavo jack dell'audio però c'è la freccia rossa vuol dire che il microfono non funziona perché è abilitato però non è collegato ok non è collegato il cavo jack per il microfono stessa cosa anche con la webcam stessa cosa anche con gli altri driver puoi semplicemente fare tasto destro sopra disabilita dispositivo abilita dispositivo e fare ok una volta fatto riavvia il tuo sistema per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao